Il Movimento 5 Stelle di Teramo oggi torna ad attaccare l'amministrazione comunale sulle spese fuori controllo, in che termini? Beh, bisogna assolutamente dire che questa amministrazione è un'amministrazione che non ha in alcun modo saputo tagliare e risparmiare soldi pubblici per investirli in servizi per i cittadini. Abbiamo un'amministrazione composta da incapaci, incapaci di amministrare, incapaci perché durante gli ultimi anni sono state delle spese folle, una gestione assurda che in questo anno porterà sicuramente al taglio di servizi pubblici. E pensiamo ad esempio al servizio di pulizia immobili, in cui il Movimento 5 Stelle si batterà per far stanziare dei soldi affinché tutta questa gestione non sia danno degli ultimi. Perché ovviamente loro non tagliano sui dirigenti, non tagliano sui funzionari alti della Teramo Ambiente o di altre cose, ma ovviamente tagliano sugli ultimi, sui più deboli, su coloro che prendono 600-700 euro al mese, che sono lì ormai da 20 anni, da 30 anni. Ecco, questo è veramente un modo di fare assurdo. Inoltre, questa amministrazione ha bocciato, senza alcuna motivazione, delle emozioni del Movimento 5 Stelle, solo per dispetto. Delle emozioni che andrebbero veramente incontro alla popolazione teramana, come ad esempio l'assegno civico, per dare un sussidio, un aiuto a quei giovani anche che non trovano lavoro. Quindi un sussidio a coloro che sono disoccupati. E non ultimo il fatto che abbiamo una città completamente ferma. Abbiamo 9 assessori, ma 9 incapaci.